Buongiorno, sono Mariluto Tarofila, siamo nello showroom Mercedes-Benz della Maldarizia Automotive SPA di Bari. Oggi vi voglio presentare la nuova EQA, il SUV compatto della gamma Mercedes EQ. L'auto promette oltre 400 km di autonomia elettrica, si compone lungo il telaio nel sottoscocca di una batteria di ionid litio di 66,5 kWh, ricaricabili in appena 32 minuti presso le nuove colonine ad alta efficienza. La nuova EQA 250 eroga una potenza di 190 cavalli, 357 Nm di coppia, trazione anteriore. Esistono tre allestimenti, Sport, Sport Plus e Premium. Nella versione Sport che abbiamo qui di fianco il prezzo parte da 51.150 euro. I cerchi in lega da 18 sono già di serie e hanno un impatto aerodinamico estremamente efficiente, la spalla è 235-55 a razze piene, fari a led, telematica con doppio display da 10, intelligenza artificiale, ambient lightning, sensori di parcheggio, telecamera. L'auto è completamente accessoriata. In più gli ecoincentivi statali ci permettono con rottamazione di godere fino a 10.000 euro di sconto. Dalla teoria alla pratica, non c'è maniera migliore per imparare ad amare quest'auto se non andandola a provare. Ho ripirato la macchina qualche settimana fa e devo dire che da amante delle auto elettriche questa si fa apprezzare. Esternamente mi piace tantissimo, due display enormi sul cruscotto e sulla parte di infotainment. Abbiamo tante informazioni a bordo che ci permettono di andare a controllare praticamente qualsiasi cosa, ma soprattutto per quanto riguarda la macchina in questo caso elettrica, abbiamo una sezione EQ che ci permette di monitorare in maniera molto veloce ed efficace quello che è la gestione della batteria, della capacità che ancora abbiamo, residua. Mercedes EQA 250 ovviamente andatela a vedere direttamente da Maldarizzi e ci saranno tutti i loro esperti che vi andranno a mostrare l'auto e vi faranno fare anche un test drive. Ci vediamo su YouTube qui su Maldarizzi. Ehi Merchades vem? Si